Musica Cari telespettatori di Antenna Sud, ben trovati al consueto appuntamento con le previsioni medio di tempo al tempo. Ecco la situazione generale prevista per mercoledì 25 gennaio. La perturbazione giunta il giorno precedente scivola lentamente verso lo Ionio, portando nella prima parte del giorno ancora precipitazioni sparse. Ed ora più nel dettaglio vediamo le previsioni per la Puglia. Sulla nostra regione precipitazioni sparse, nevose sui 200-400 metri in Alta Puglia, sui 500-700 metri altrove. Possibili fiocchi tra la pioggia anche su pianure baresi e foggiane. Migliora nel pomeriggio su Alta Puglia, solo in tarda serata sul resto della regione. E adesso spazio alla situazione prevista per la Basilicata ed il Molise. In Basilicata precipitazioni nevose a nord, verso i 200-400 metri, con miglioramenti nella seconda parte della giornata. Nevicate anche in Molise al mattino. Nel pomeriggio sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche raggio di sole. In montagna schiarite alternate a nubi sparse. E come sempre concludiamo con le previsioni per le temperature, i venti e i mari. Venti tesi forti tra nord-est e nord, con mari agitati, temperature in calo, freddo in quota. Ed ora è tutto con le nostre previsioni. Vi ringrazio per averci seguito e vi lascio in buona compagnia, naturalmente con il programma di Antenna Sud. Buon proseguimento e arrivederci. Grazie.